Ben ritrovati con l'appuntamento minuto sale e luce. Questa mattina Papa Francesco all'udienza generale proseguendo il ciclo di catechesi sul Padre Nostro ha incentrato la sua meditazione sul tema ma liberaci dal male. Il Pontefice ha spiegato che davanti alla forte presenza del male nel mondo i cristiani sperimentano che Gesù è dalla nostra parte perché dalla croce ha saputo donare a tutti il perdono e la pace. Papa Francesco ha inviato oggi un messaggio di saluto ai partecipanti del 24esimo convegno dell'International Catholic Jewish Liaison Committee. Nel messaggio il Santo Padre ha osservato come sia una cosa buona affrontare questioni attuali fra cui la recrudescenza dell'antisemitismo e le persecuzioni dei cristiani. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di domani mattina a partire dalle ore 8 Easter Time con la diretta del funerale di Giambani. Lo potrete seguire su Salt & Light. È tutto anche per oggi l'appuntamento è a domani.